no 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 vado dentro vengo dentro la casa io cosa ma le mappe sono già prestabilita no ma tanto sapremo già che loro faranno block e down pur c'era una novità hanno già portato ma allora facciamo una delle mappe belle per favore mi cerca a strisciare tutta la mappa le fanno loro le due merdose l'altro sono tutte belle cioè l'altro giorno mi ha scritto rai mi ha tolato razzi dice perché gli ha sparato sul corpo tu dice il pilotino che mi ha sparato sul corpo ma che cazzo vuoi ma pensavano che già capo io se ti piace questa pilota ma l'hai vista la foto pilota no un attimo vedi la foto pilota voglio sentire le azioni indirette vabbè ma chi è una ragazza di napoli che no 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 una ragazza di provincia di napoli e sto cercando di posteggiarmi ma di barcheggio il cazzo dentro la torca è difficile ma che è difficile quando hai lasciato nella faccia meglio che sono difficile che è io le ho letto io ho un cazzotto nella cervelletta la spiega come Andreotti ma la scopo è la morta a belle cose che si dicono strumenti e e e e e e ma ma chi è che c'hai ma ma chi è che ha fatto i classi rascin la k a 74 jug ma non valgono non valgono non valgono è far fettata ma ma la nostra è gladi ma la nostra è gladi raga appunto non valgono che abbiamo noi arriviamo al culo non ho capito perchè quest'anno eh perchè boh non avevo preso un altro gb perchè sei un coglione ecco perchè io ti avverto t'avverto zack stiamo sul colaponto e te dico dietro sei abbastanza stretti eh ve lo dico già eh lo so lo so lo so quanti ne siamo dietro 46 ne siete dietro eh cioè perco dio quante rischiene eeeh eeeh andiamo tranquillo eeeh andiamo tranquillo tranquillo ah paradossalmente si perchè io guido sto accanto quindi paradossalmente vado tranquillo si a me sei la pariente tu si ok allora non guidi guida gradi che doveva no guidi tu e zitto hai detto zack che ti dava un euro al chilometro no va bene io quasi vende con poco porco dio devo fare una scatola di marzo non è ma fa bene a vendersi con poco magari bastano un marzo eh se al tuo matrimonio ti dici sposa di quello che ti dà una scatola di marzo lui ti va nella scatola di marzo e lascia l'altare già hai scritto sta cosa se ti avvicchi arriva col camion e non arriva in chiesa eh se vi dico solo questo no si oh raga ma chi è che gioca sul lungomare che ti dà vento oh che fastidio mi sento anche io quel napoletano di man no 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 hai creato il ventilatore sicuro sicuro no 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 non c'è il ventilatore no povero oddio oddio che strano coda raga infatti noi stiamo facendo il gb dopo che non ci giochi da tre settimane che giocatore vada qua che giocatore vada piano sniper vada lascia il giro vada ma qua anche su a nessuno era passato ma me so torto ma che figlia di puttana non è stato stanno 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 ma dove stai ai secchi ma lui ha palma lui ha palma ma un aereo e un aereo la piazza te la piazza per mid p dai mid dai dai carica pilo pilo la macchina verde l'entra dal mid o del vento io vado sono morto è una e valmi una mid si la bevano bu vado sono morto dietro al muro io la carica vinci stai round dillo mi compro a costa e non tu dai beh sta l'altro porco zio io l'ho visto non so la sciatta cioè ah l'ho fatto un culto tubo della mano Anna ma no ma sono morto io dietro al muro cioè io ero scappato da posta non ho fermato dietro al muro per per attimo per capire la situazione sono morto dietro al muro eh vabbè io push questo sarebbe quando push io però questo sarebbe sulla famiglia dopo eh cecchino da pia bravo questo cecchino sembrerebbe bravo muoveremo un po' no 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 vabbè le macchine esplorano subito agli altri subito uno ha vettato allo spawn e non tregannavano codio stavano tutti e tre vicino stavano tutti e tre vicino eh si stavano tutti e tre vicino e vabbè che cazzo uno è qua caffè cucina eh aspetta aspetta partito dalla casa nidda c'era io caffè tranquillo non guardarlo eh no non ti so guarda caffè basta sta nerando uno sta nerando uno tra la garage no è sbagliato troppo no codio c'è la bomba no 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 c'è allora la strana e a destra stai ziiiitt toksu stai ziiitt che secondo voi del fenomenal la strana prima a destra e la la sinistra vabbè dirò da senza miss vabbè fin lì eh raga provo a venire a prendere dietro un sniper non ti guarda dentro A che se prendiamo un sniper aggiamo B perfetto è arrivato B così è buff è arrivato a venire sui bom 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 non vedo lo sniper eh uno è la top casa B sotto top sotto l'ho preso sotto l'ho preso l'ho preso sotto ah lui uno sta su B ti va camminare lo arrivo pure io hai nel mercatino nel vicoletto di B vicoletto di B mi hai visto? è un R un R pazzo sei lato alla grande vabbè eh troviamo dietro B sta o sopra casa o dietro ma cazzo casino eh vabbè ma che cazzo ci avete a caso? ciao a bello qui bella www dis sic the Go ed che giocatore pilo con la granata meraviglioso una grossa ok so crossa di in due e abonami la bomba è proprio davanti all'entrata, uno va sopra è l'ultimo allora, è l'ultimo sopra P, confermi? si si è a sopra, è sopra, è watch se scende lo prendo è watch, è un 3x che ho fatto, che cazzo devo fare sure, sta ovviamente fuori l'entrata della bomba sì, allora è sopra, è sopra la casa dicevo che non voglio sure, ma vai giù, è sopra la casa oddio, come è ucciso, non vuol ben domaio ma magari sta facendo guardare le scale, attenzione ma sure, ti dico che è sopra, da là puoi usci, eh insomma, sure, devi capire che... cioè, devi sottimentarla, devi sottimentarla sure non capace che esci niente che c'ha all'interno provate, arrivede con Davie, tanto girano il fumo tiratevi la granata al cross, pre fire, provamolo un po' provamolo niente mi non mi va avanti, va avanti una statua dai, ma questo è il figlio papà oggi oggi sciocco io riesco a piassare qua, non ci riesco più ma lo sai che è che ne so qualche echiletto il tuo persaggio è, il tuo persaggio è Candio no, è un po' io la chiedeva una bomba in faccia ho nato uno che vabbè in dietro, quella pusha o meno Maria Carlson non lo vedi, è tutto mettami a ventare una cosa, non è? mettami a ventare una cosa, non è? mettami a ventare una cosa è, barco Dio, eh vabbè è bella che nessuno sa faccia, potremmo girare una paura è avviata dietro è andato e ha tirato una scureggia fermo fermo adesso è dietro a un muro non lo so vabbè l'altro ti attacca la destra se quello assiste l'altro chiede la destra Fira se te fai questa torta paga i gradi vabbè perchè vado per tutti quanti non lo so non mi piace paghi tu Fira ho zitto un po' minzone nera quella c'è un'altra? ehm eh guarda lo sta l'altra io stavo dietro a un muro visuale morte e ho mezzo corpo da fuori no non hai capito ma io nemmeno visuale quello quale esertico e l'ho preso con gli altri colpi eh eh non l'ho visto perchè stavo a vedere la visione morte mia no no l'ho preso completamente eh ti dico non l'ho visto perchè stavo a vedere la visione morte eh no te lo dico io vabbè mi fido ma minchia c'ho questo c'ho le cuffie a falla ok io lo dovrebbe girare vabbè 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 ti puoi mettere il mio bidone ovunque eh lo so ma probabilmente è già passato qualcuno che si guarda in punta e mi ammazza le spalle rosio cucina zitto zitto vabbiamo e cucina parliamo in la pelle aspetta cucina oh arcozio mi stavo a girare via mid, via mid, la bomba ce l'ha detto la bomba ce l'ha detto arriva l'aspita mid, occhio ma è passato ma io poi c'è non vedo lui, lui come fa a vedere il malmedio dalla palma è quello che devo capire, io quello devo capire ma non è andata così, oh non, vabbè ok, devo scoppiare in aria di l'auto maggio è martedì, è mercoledì martedì qualcuno pusherà, mannaggia mannaggia a gesù cristo, riesco per salire maggio, non è neveva ma sta nel granapelle io di giro come prima, con la prison 4 uno fa il bug, mi sa bug? eh fontana là ah il salto come sta di sopra là in basso, è nella palma ho preso nella palma ho preso nella palma aveva una bandana io l'ho preso, è nella SMG io potrei entrare, io un po' dove è? no, dietro la macchina stava vicinando a voi raga io l'ho provo appena quella dietro la macchina preso, preso, preso buono basta uno raga stop a casa B arrivo, 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 arrivo esiste, XU, muovere il muovere, XU quando mi manca andatene vai tranquillo vabbè, vabbè, che brain che brain, XU mamma mia, mi sto eccitando guarda che fila, guarda che fila ahahah c'ha fatto, se lo faccio è sotto casa B, eh, qui guarda che costra caccio il Kilo, caccio il Kilo, caccio il Kilo, vedo mi staccio, su si, 5 non lo devo ordinare quella nuova non c'è un cazzo da fare ecco Dio palla un buono l'altra P850 la buttavo ecco Dio ah ma 4x3 penso stavamo più lontani raga, evitaglio sto casino dentro cate per favore, oh ma c'è perché io non lo sento? ma sta giocando da sola quel cazzo di in faccia non è già subito e sta diventato ma non è seduta niente un'ottono no no non sento tutto c'è sento che c'è un qualcosa tutto ma non tutto sto casino io forse vengono B vengono B ma so vengono B ma so vabbè c'è la bomba, c'è la bomba c'è la bomba c'è la cassonetti c'era rimasto Fiori allora tira sopra Fiori guarda che sfiga c'è la SMG sopra Fiori c'è la bomba venga all'entrata delle io se poi c'è lì non c'è la bomba ma non è perfetto manca il mid c'è la via la mid c'è la via la mid ma c'è la bomba cassonetti si si vedrà lui guardi mi guardi a sinistra ok destra dove 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 ho preso ho preso distrutto distrutto sto muore sto figlio da puttana gli lanciavo l'arma tra un po' c'è la bomba c'è la bomba hai visto c'è qualche biscotto da la c'è la bomba non lo senti settimana in tereo non cambia mai c'è se passa quella bomba guarda 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 che non salta più oh Oh RIN ha 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 ah ma andiamo andiamo insomma ooo andiamo su sei chianto ragazzi andiamo ah ah ecco il quit ho col quitte il giocatore meraviglioso Robby guarda quanto è meglio guarda quanto è meglio guarda quanto è perdita guarda quanto è perdita guarda quanto è perdita non è vero Pira abbiamo vinto oh hai sentito la dieta ha sceso come sai è arrivato l'arrodino avrò da coltelli mida 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 no dai ecchia no oh dio stanno sulla bomba stanno sulla bomba ecco la mida ecco la mida prego 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 no 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 spero che ne hai presa un'altra già no ha detto è 20 quindi siamo dentro ah ma già ci aggiungi io la gente ci vuole un quarto d'ora prima che aggiunge questi comunque erano scarsi erano 12-4 anzi 13-4 ma anche se ne ha preso santo è the best è the best of one o best of three noi siamo realmente grossi se facciamo the best of one the best of one the best of one and the best of one now i 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No ma comunque non ha senso giocare col tosso Zack davvero. Io tipo ti vedo e muoio senza un cazzo di motivo. Vado dietro a una merda di container e muoio quando è che sono già dietro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.